a cena con i gobbi allegri resta al cento per cento disdite disdite anche la tv disdite stella disdite il canone rai disdite tutto allegri resta al cento per cento stella guarda guarda che sta ascoltando sta ascoltando le notizie va 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 le sta ascoltando le notizie va 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 disdite disdite tutto disdite pure l'abbonamento l'abbonamento cattolico l'abbonamento tutto dovete disdire dovete disdire vedi senti questi gobbi cosa dicono la palla di cristallo allegri resta al cento poi parliamo di maldini cosa è successo a maldini stella l'uccello rosso si è incassato per decrete l'era avete fatto guerra per decrete l'era ma come il nuovo caca avete fatto guerra perché dopo dopo vediamo di capire cosa è successo disdite disdite